musica 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 no no oh che succede ce l'ho fatta tantissimo che sogna senza morbro no no aspetta aspettatemi ce la faccio a fare ste scale de merda perchè il mio muore sulle scale così a caso muore muore musica 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 ha musica 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 vedi che oggi sul real power c'è qualche problema grave ragazzi sul real power scrivete hashtag sul real power drogato nei commenti non è una droga la teina sotto le unghie dei piedi proprio allora cosa facciamo oggi facciamo un po di gare malate così a random e vediamo cosa succede dai io scelgo la z intorno azione vittoria sega cosa che detto così sembra io prendo la bugatti i woke up in anio bugatti non so che cos'è sta pista quindi non so cosa ci aspetta potrebbe aspettarci qualcosa di semplice come qualcosa di veramente tossico fatto tipo vegas oh che track su real power drogato oggi ecco arriva un altro tossico da dietro alle quinte ma per il marino parte ragazzi ma questa è una di quelle malati no che è sta roba cos'è non lo so non lo so attenzione cosa ragazzi un giro della morte questa è una figata si parte a bomba sono subito prima c'è il bonus ma perché voi siete partiti no no c'è la mamma troia sul ricazzo oh che succede ce l'ho fatta tantissimo io non proprio io no sono finito su un palazzo accanto ragazzi ci credete che io vedo il mio nero qua davanti ma non vedo macchine che è il primo che è il primo il mio ruolo in questa gara è fare tipo l'arbitro no ma perché mi ha detto direzione sbagliata ragazzi sono fuori dalla gara guarda dove sono ma che ne so ma mi viene sparito quarto sono come quarto se Dexter è fermo hai saltato il checkpoint perché Dexter sta vincendo e noi non lo sappiamo io sono già arrivato sto troppo avanti io non ci sto capendo un cazzo lui non parte perché sa già di vincere tu sei confuso io sono tanto confuso perché sono uscito fuori pista ma sono ancora primo che cazzo avete fatto vi siete fappati dietro non avete fatto un cazzo a me mi ha portato all'inizio di nuovo sono il power dai eri tanto drugato di teina e sei ancora ultimo ho capito ma anima ha buttato fuori dal cerchio comunque Vegas vince non facilità il sommo illuminato Dexter non ha partecipato perché sapeva già di vincere hai capito allora ci ha fatto giocare a noi troppo semplice c'è il mio personaggio proprio schifato che guarda la gara voi gareggiate dai si parte da un coso degli elicotteri non promette bene papà swag che dai eh perché sono morti perché sono tutti morti perché texter parte al contrario ma perché perché non sono vicino perché sono senza moto sono senza moto sono senza moto no no aspetta aspetta aspettatemi ragazzi ma dove si va calma perché si è spento tutto oddio no non ci arrivo io non ci arrivo non ci arrivo no l'unico che ci è arrivato è anima no ragazzi ma sono morto devastatissimo ma perché sceglie ma perché muoio ogni volta ce la faccio ce la faccio ce la faccio mi sono sfracellato allucinante anch'io anch'io tutti qua ma ogni salta è un suggerito anch'io forse questa non è la moto adatta per fare questa gara forse sarà la pappa adatta no 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 ce la faccio ce la faccio ce la faremo no non ce la faccio ah capisco perché sono morto non mi ero messo il casco so riii che è ma che bisogna fare dai 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 sali non lo so come faccio il gioco ad essere primo ma non penso sia la via giusta ma si dai chi è primo ragazzi quando non trovate la strada premete triangolo così ritornate oh oh io ho preso il checkpoint vaffanculo a tutti passa hai preso il checkpoint io ho preso un palazzo in bocca ma su a caso ragazzi i checkpoint si prendono a forza di morti qui ma su riempire come è primo si si come è primo ma tipo superato come è primo tu riappiccivi sono bravissimo io eh sto gioco è il mio gioco preferito eh l'ho esagerato cosa sei bravissimo ma che macchina hai preso bravo ma che macchina con le moto si sa che teppni sta seguendo ragazzi a che gara stai giocando teppni in un altro mondo ma che cazzo di buco che moto hai preso oh stai sto dietro di te dai ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo di merda io non riesco a fare scale ma che merda porco giuda perché muoio sempre ho vinto ma qua hai vinto ho vinto sono qui guarda ce la faccio a fare ste scale de merda perché il mio muore sulle scale così a caso muore muore salve ciao io me ne vado con la mia moto fabolus rosa ciao guarda come muori signore signore vai alle scale le so fare no perché sviene all'improvviso guarda come che non sai giocare vai dritto no vai dritto ti giri da solo sali dritto sali dritto sali dritto ok bravo si oh oh ti vaga come orgasmo morto tantissimo non posso arrivare ultimo non posso arrivare ultimo ti prego corri ma no ma non voglio più ci sono ci sono vai così vai così vai così ancora dove sei dexter dove sei ma sei morto io non lo so stai davanti a me e va a non concludere la gara non è arrivato mamma mia sono arrivato primo bastardi che cazzo ridi che cazzo gioisci perché io sono full of power il potere del tè mi aiuta tantissimo andate a fancora ecco perché ha vinto hai capito ha bevuto il tè del re allora ragazzi facciamo una terza partita siamo in un deathmatch tutti contro tutti e siamo tipo in cielo in aria da qualche parte è una piramide sull'atmosfera non lo so benvenuti a tutti nel deathmatch blue ma dove cazzo so io o perché sto in alto dove state voi ragazzi io vi guardo dall'alto che cazzo fai ciao oddio ma non vale te c'hai la mazza pugno volante no ma che cazzo vuoi stronzo de merda ti disfo come si picca ma io non c'ho la mazza cazzi tuoi ma questo c'ha la mazza in mano oh che pazzo de merda io stavo andato cazzo sono caduto di sotto ma non è vero che c'è solo i pugni stepney tu menti stepney mentitore stepney non mentire anima ce l'aveva il mazzone il mazzone ma il coltello tu l'hai preso il coltello c'è la pistola ma stepney ma dove c'ha la pistola oddio schiva e cazzo oh che cazzo fai dei due due d'altro uno no mi sono sfracellato madonna ti faccio il culo ragazzi spazzate prima surry ecco mi hai fatto già la pistola sto pezzo di merda surry fai il cagnaccio con la pistola tutti sussurri prima tutti sussurri no ci vado da dietro ti ricordo non mentire godo vado da dietro no no va cazzo mi è suicidato aia che cazzo guardi mi piace manco il giallo stepney di merda non è ricaduto no come cazzo si schiva aiuto aiuto c'ho un fucile c'ho un fucile aia mi nascondo mi nascondo che fai che fai surry dai non ho più la pistola c'è la stepney c'è la stepney arrivo mi stronzo di merda guarda che stronzo stepney no raga la pistola non vale no no picciate stepney picciate stepney è sopra 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 in aria non mi aprite mai no mi vado a suicidare mi vado a suicidare ecco vaffanculo stepney cazzo ragazzi su su aia prima i due litiganti il terzo cote uno dopo l'altro uno dopo l'altro così pezzo di merda affanculo anima di merda tu sei una merda sei una donna non hai le palle non hai problemi lì anima è a otto anima è a otto picciatelo piccchialo no ci sono arrivato il secondo ha fatto una strage con quel coltello ma che cazzo beccatemi sta caccolona sasha anima di forbici anima di forbici allora ragazzi se questo video con le gare vi è piaciuto superiamo sempre i 7000 like io ringrazio anima su real power stepney e dex per aver partecipato a questo video vaffanculo vaffanculo lasciate un like un bel like un bel commento una condivisione ci vediamo nel prossimo video bella ciao ciao ciao